Io ho iniziato a registrare per caso, ma questo è solo un aneddoto, in Lucania nel 1955, avevo 12 anni, ma per caso, non è che adesso ho partito dicendo voglio registrare, c'era un amico di mio padre, allora noi eravamo a Potenza, una domenica lui aveva un gelosino e lo portava sempre in giro, un giorno era disassoferrato questa persona e un giorno siamo capitati in una trattoria e c'erano due che cantavano, uno suonava il canetto e uno cantava e io gli ho detto, si chiamava Giovanni Passari, questa persona, e lui mi ha detto ma prendi quel regio, fai tu, attaccalo, fai, e io ho preso, ho acceso questa cosa e c'erano ancora i due pezzi che ho inciso.